Il Comune di Cuomo ha pubblicato il bando per l'aggiudicazione della piscina di Via Leggeno. La base della gara è fissata a 25.050 euro di affitto all'anno e la durata prevista del contratto è di nove anni. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 27 luglio prossimo. Come tutti i bandi pubblici anche quello della piscina di Via Leggeno contiene un complicato sistema di calcolo dei punti sulla base dei quali viene poi assegnata la gestione. Non solo, sono specificate anche alcune clausole che se non rispettate determinano l'impossibilità di partecipare alla gara. Una di queste clausole, la numero A6, impedirà di fatto alla pallonuoto comodi concorrere al bando. Per avere la gestione della piscina infatti si deve presentare una documentazione dalla quale risulti inequivocabilmente esperienza significativa ultratriennale nell'ambito dell'attività in oggetto della gara. La società di dato, che in passato aveva manifestato l'interesse a gestire l'impianto, non ha ancora tre anni di vita, non ha perciò uno dei requisiti necessari. Se fosse così, commenta lo stesso dato, è evidente che non potremmo presentare la nostra domanda. Al momento però siamo più impegnati sul terreno agonistico.